Questione annosa degli spazi del Tribunale di Macerata, provincia chiamata in caso dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati Ghio. Lei ha definito quello di Ghio un attacco scomposto basato anche su fatti non veri e tra l'altro inviato all'indirizzo sbagliato. Assolutamente sì, l'indirizzo sbagliato perché non è corso della Repubblica ma è Piazza della Libertà e il Comune, quindi si rivolga al Comune. Se la sede è idonea o non idonea, quella individuata dal Comune deve discutere con il Comune. Noi non ci siamo sottratti mai al dialogo e al confronto, ho mille prove per testimoniarlo, ma chiaramente, ripeto, la competenza di altri. Ma quello che io non gradisco, non direi assolutamente, ritengo inaccettabile, è il tono, è la visse polemica, è l'attacco personale. Non capisco per quale scopo, perfino arrivando a dire cose non vere, non veritiere. Mi si accusa, udite udite, di essermi ricordato dell'avvocatura soltanto per meri scopi elettorali. È una vergogna solo a scrivere una cosa del genere, perché la verità è esattamente il contrario. Io penso che è giusto che i cittadini sappiano quello che scrive questo signore, quello che asserisce questo signore. Aggiungo anche un'altra cosa, pur non essendo assolutamente competenti, quindi non avendo nessuna funzione, nessun obbligo, nessuna competenza, siamo fatti carico finché abbiamo potuto, o per dei modi e nelle forme in cui potevamo farci carico del problema. Tant'è vero che ho personalmente parlato con l'Istituto Pannaggi, con il Corpo Docente, con il Preside, insomma per capire insieme se quali spazi potevano essere momentaneamente destinati ad altri usi. Da quando sono stato eletto ho solo la preoccupazione di onorare il voto che ho ottenuto da tantissimi cittadini, sento la responsabilità di fare questo, ma sfido chiunque a poter dire che mi sono sottratto a qualsiasi tipo di problematica, ma ancora di più che abbia agito con scopi di tipo elettorali o politici. A me preoccupa solo amministrare e dare risposte, purtroppo oggi è sempre più complicato.